Tolta la luce al Campo Nomadi, il provvedimento del sindaco di Cadoneghe, 48 ore dopo l'incendio che lunedì pomeriggio ha distrutto un pezzo di campo di frumento in una proprietà privata di via Matteotti, i rilievi dei vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme e dei tecnici dell'Enel hanno stabilito che il rogo è stato provocato da un cortocircuito di un allacciamento Enel abusivo, effettuato con ogni probabilità dai membri del Campo Rom che si trova nelle immediate vicinanze. È a Cadoneghe che stiamo seguendo una politica che intende contrastare l'abusivismo in tutte le sue forme e soprattutto non accettiamo che nel nostro territorio vi siano dei campi abusivi dove vivono persone. In questo caso dietro di me vedete questo allaccio abusivo che abbiamo scoperto dopo la propagazione dell'incendio, abbiamo contattato l'Enel, abbiamo verificato fino all'ultimo istante la natura dell'allaccio e abbiamo visto che è un allaccio che non esiste, è un allaccio abusivo, peraltro pericolosissimo per l'incolumità pubblica e quindi ho chiesto immediatamente all'Enel con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia locale il disinnesco, quindi l'eliminazione dell'allaccio. Nelle prossime ore verrà completamente rimosso l'allaccio abusivo, restano ben visibili intanto i pezzi di plastica dei tubi aneriti che salgono su fino ai fili della corrente. L'incendio di lunedì poteva avere ripercussioni ben più gravi se non si fosse accorto subito delle fiamme un volontario di protezione civile che ha dato l'allarme. In pochi minuti l'incendio si è propagato, lambendo anche un vicino campo di frumento e sarebbe arrivato fino a Cadoneghe Vecchia. Non possiamo più permetterci di avere a Cadoneghe questo campo abusivo che è l'ultimo che rimane perché sapete, vi ricordate, che il campo di Via Fratina è stato sgomberato circa un anno e mezzo fa. Grazie.